Sulle strade del quartiere, torniamo anche qui con Google Maps per mostrarvi il prima e il dopo, su via Pietro Paolo Vergerio, sempre una strada che si trova appunto tra via Sirocorti e via Maffeoveggio, insomma sono tutte stradine del quartiere. Anche in questo caso notiamo macchine parcheggiate di qua e di là e assenza di marciapiedi. Nelle immagini, eccole qui, aggiornate, notiamo la presenza di parapedonali, tra l'altro una richiesta che per prima era stata fatta da alcune persone anche un po' là con l'età che frequentano una struttura su quella strada, è un edificio giallo, tra poco lo vedrete, quindi sono stati i primi ad appellarsi in questo caso al Presidente del Municipio per chiedere perlomeno appunto la realizzazione del marciapiede, quindi un piccolo intervento di messa in sicurezza dei pedoni, Presidente, è andata così più o meno? Certo, ecco, si è visto adesso una raccolta delle acque, voglio dire che prima ancora che in marciapiede in via Pietropaolo Vergere abbiamo realizzato la rete fognaria. Le fogne sono nuove. Mi piace ricordare a tutti che erano 40 anni che inascoltati i cittadini chiedevano che venisse messa a mano alle fogne perché nel tratto finale, quello che vuole percorso in discesa, quando pioveva le case si allagavano, dei cose non gradite, per cui sì, l'aspetto dell'urbanistica e l'aspetto del decoro è benissimo. Noi qui però abbiamo realizzato quello che abbiamo fatto soprattutto pensando a due cose. Primo, questa via Pietropaolo Vergere, da ex strada laterale, diciamo sì, locale, è diventata una torsale di traffico. Oggi da Montemario si esce o da via Pietropaolo Vergere, la parte bassa, o da via Augusto Conti, via Fratelli Gualandi. Sono due strade di uscita. Una è questa, per cui l'abbiamo voluta mettere in sicurezza, realizzando appunto il marciapiede, dopo le fogne, per mettere in sicurezza i cittadini, per mettere in sicurezza perché un primo tratto è anche doppio senso, altrimenti pure qui sempre la gente la mattina aveva difficoltà, e perché appunto noi in questo modo garantiamo un'uscita da Montemario in qualsiasi condizioni, perché prima, quando per qualche motivo si fermava l'autobus in via Gualandi, non si usciva più da Montemario. È opportuno ricordarle queste cose perché poi si fanno. Debo dire che è partito tutto dall'iniziativa di quella casa di riposo per anziani, ex da bambino, era una scuola elementare pure quella gestita da suore, che avevano posto il problema del poter uscire dalla struttura e raggiungere Montemario. Siamo partiti da lì per poi in due anni fare prima le fogne, poi realizzare il marciapiede e mettere in sicurezza la strada. Sono piccole opere che danno il segno dell'attenzione dell'amministrazione verso i cittadini. Poi le cose da fare, devo dire, sono tante e quello che si fa è sempre poco. Però ogni tanto è meglio ricordarlo perché se ne perde la memoria. Lo facciamo, lo facciamo. Infatti la presenza dell'amministrazione municipale si noterà anche su un'altra strada. Vi mostriamo adesso via Giuseppe Taverna. L'abbiamo ripresa in curva. Questa è una strada da cui tra l'altro si vede anche il parco dell'Insuguerata. E qui si sta portando avanti un vero e proprio intervento di bonifica. Dico di bonifica perché qui una volta, a parte il fatto che c'è un nido, c'erano delle baracche. Insomma si sta potando fino alle case, si sta cercando di sistemare tutta l'area verde anche perché verrà messa una recinzione a ridosso delle alberature per consentire poi appunto anche la realizzazione del marciapiede. Quindi un intervento di potatura abbastanza importante anche per evitare che poi in futuro Presidente si ripresentino situazioni di quel tipo, immagino. E adesso ci spiega anche con quali fondi perché anche questo mi sembra rientri nelle opere a scomputo anche insieme a un PUP che poco sopra si sta riconsegnando ai cittadini. Sì, pure questa è un'opera che chi ha realizzato il PUP che non vi ho fatto vedere perché sarà oggetto di altra puntata è realizzato il centro commerciale e naturalmente le case versa degli oneri concessori e in più si è impegnato a realizzare quest'area verde a ridosso. Questa è un appendice del Parco dell'Insucherata per cui sottoposta ai vincoli che tutti conoscono dei parchi e delle aree di pregio di questa città noi confidiamo nel fatto che dopo questa prima pulitura che ancora deve essere realizzata per tutta l'area si possa proprio per quello che vi ho detto prima che è la parte superiore e questa è la parte bassa e l'accesso su via Trionfale da via Pietrovalo-Vergerio proprio perché appunto per mettere in sicurezza anche il passaggio dei pedoni noi pensiamo di poter concordare la realizzazione di un marciapiede con una recinzione per mettere appunto in sicurezza anche i pedoni che transitano da questa parte. Questa è la parte destra dell'Insucherata che adesso come vedete è pulita e recintata perché avevamo diffidato il proprietario dell'area a tenerla pulita giustamente adesso lui la tiene pulita però se l'è recintata e ci ha messi cavalli proprio perché è nell'Insucherata ma è aria privata e l'abbiamo obbligata, l'abbiamo fatto bene perché era sempre aria dove cresceva l'erba e nessuno la tagliava, non competeva a noi competeva al privato il privato adesso la tiene pulita però come vedete è recintata per cui è stata di fatto privata alla fruizione pubblica però da lì parte l'Insucherata chi può camminare ha un'area bellissima da scoprire da quest'altra parte invece c'è questo intervento che mi piace far vedere oggi perché spero poi che se ne possa apprezzare dopo la conclusione dei lavori la realizzazione fra l'altro questa è una parte danneggiata molto dall'ultima nevicata dell'altro anno parte che avevamo lasciato in sospeso proprio perché per due motivi primo perché le alberature non insistevano sulla strada avevano tolto soltanto la strada due perché abbiamo preferito prima fare alberature pericolanti sulle strade, nelle scuole ci ha voluto del tempo perché noi siamo stati veramente danneggiati dalla nevicata dell'anno scorso e devo dire che ci dobbiamo ancora riprendere perché gran parte delle strade ammalorate oggi sono ancora il frutto di quella nevicata con tutta l'acqua che si è inserita sotto l'asfalto e che l'ha sbriciolato devo dire che anche in quell'occasione è stata sottovalutata dall'amministrazione centrale i danni che il municipio ha ricevuto siamo stati trattati al pari di altri municipi che avevano sicuramente sostenuto danni minori dei nostri all'epoca ebbi modo di rappresentare la situazione al sindaco in parte ascoltato e in parte no però insomma va bene fa parte delle dinamiche interne all'amministrazione a